Un film horror con riferimenti a Britney Spears? Questo secondo me è Smile 2 Ciao a tutti, sono Marta Sovia e benvenuti in un nuovo video Benvenuti, sono qui con Carrie che è semplicemente perché il papà è lontano e quindi è tutta malinconica Benvenuti perché oggi vi parlerò di un altro film horror Sto parlando di Smile 2 e questo sembra letteralmente il momento perfetto dell'uscita di tanti film horror che parlano dell'esperienza femminile Sinceramente ho notato che diversi film ci sono che durante quest'anno sono usciti che sono super interessanti per quanto riguarda l'esperienza femminile dalla maternità, gli abusi, qui il peso della fama gli standard di bellezza veramente bellissimo Sia Smile 2 sia The Substance parlano dell'orrore nell'essere una donna all'interno del mondo dello spettacolo con aspetti differenti e ne parleremo Questa quindi sarà la recensione di Smile 2 e vi dico per correttezza io ho una collaborazione con Smile 2 abbiamo fatto un video insieme super inquietante che devo uscire, questo video non è a parte della collaborazione è la mia recensione sul film che ovviamente se ho accettato la collaborazione mi è piaciuto io per chiarezza ve lo dico un film horror con riferimenti a Britney Spears potevo non amarlo ma certo spero di esservi utile per farvi capire qualcosa in più per quanto riguarda il film e farvi capire se è il film perfetto per la vostra serata oppure no prima di iniziare se vi vorrei supportare il mio canale potete farlo con un like o un commento oppure ancora abbonatevi al mio canale tutte cose mi aiutano tantissimo se lasciate un commento interagite mi aiuta tantissimo se mi seguite su Instagram e TikTok grazie mille cercate Marta Suvi perché il mio nome, quello del canale è Bandito perché pensa a Instagram, pensa che voi volete comprare delle sostanze e roba così quindi cercate Marta Suvi, aiutatemi altrimenti Instagram non lo so se volete sostenermi c'è anche un modo per utilizzare il mio codice di Pampling il codice sghicio e vi farà entrare nell'esercito dei Chihuahua guardate qua come l'ho ridotta ma con le youtuber non lo so, con i neonati fanno i video così ci sono neonati più indipendenti di Carrie quindi se volete entrare anche voi nell'esercito di Chihuahua utilizzate il codice sghicio su Pampling che è un codice affiliato ma iniziamo subito a parlare del film il film parla della protagonista Nomi Scott che qui è Sky Riley lei è una pop star ma si sta riprendendo da un anno estremamente difficile questo anno ha visto un abuso di sostanze ha preso diverse cose tanto che il tutto si è culminato con un incidente dove la macchina sua e del fidanzato è andata fuori strada e purtroppo il fidanzato ha perso la vita lei inoltre ha dei problemi per quanto riguarda l'utilizzo del corpo visto che dopo questo incidente è stata operata ha dei problemi alla schiena, grandi dolori alle gambe, alle ginocchia e tutte queste cose e inoltre sta combattendo anche con le crisi di assinenza, il trauma eccetera eccetera oltre ai dolori il trauma è fortemente manipolata dalla madre che è sua manager e vuole continuare a spingerla a fare un tour mondiale quando lei non si è ancora totalmente ripresa fisicamente e mentalmente da questa cosa una sera va per chiedere un antidolorifico per la schiena e l'operazione vada a un suo amico ma assiste a una cosa inquietante questo dizio che insomma sembra essere fuori di testa fa un sorriso e poi tac è andato da lì le cose diventano sempre più strane lei inizia a vedere qualcosa e ovviamente la domanda è questa sta andando fuori da testa oppure c'è qualcosa sotto? lo scoprirete guardando il film perché qui non si fanno spoiler ma iniziamo solo a parlare del film allora Smile 1 a me era piaciuto molto scusate ma guardate i rotolini di Carrie parlando di standard di bellezza Smile 1 a me era piaciuto molto mi era piaciuto molto sia per quanto riguarda le scelte registiche ma mi era piaciuto molto anche il fatto che si offrisse a doppie letture letture che potevano essere per il sopranaturale così come per letture legate al trauma c'erano molto spesso queste protagoniste femminili che avevano rapporti complicati con le madri e che fino alla fine tu potenzialmente potevi leggere il film in una maniera duplice proprio questa duplicità, questo capovolgimento è una cosa che torna anche in questo secondo film ma a me è piaciuto molto tornano anche queste stile di regia che si capovolge che quindi effettivamente gioca sul fatto del sorriso come si mette il contrario una faccia triste e quindi fino all'ultimo diciamo si presta la lettura del fatto che è quello che sta vedendo un sorriso oppure secondo me potrebbe essere anche magari la lettura di un trauma che stanno vivendo queste persone principalmente questa protagonista ho trovato molto affascinante come recentemente l'horror si presti proprio ad affrontare e indagare il trauma femminile in contesti anche non particolarmente indagati la dipendenza femminile è raro che tu vedi dei personaggi femminili con delle dipendenze è sempre una roba che si lascia ai personaggi maschili molto spesso ma l'esperienza della femminilità all'interno della nostra società del mondo dell'intrattenimento è un'esperienza estremamente pericolosa e piena di orrori sicuramente vedendo questo trailer voi avrete pensato a una cosa trap di Shyamalan io per prima l'ho pensata e visto che mi ricordavo che era uscito prima questo trailer e prima le colonne sonore cantate da Naomi Scott che qui interpreta la pop star e hanno fatto uscire anche un disco effettivo mi sono domandata chi ha copiato lì? quindi sono andata proprio a fare i compiti quali sono stati i film che sono usciti prima? qual è quello che è stato fatto prima? allora noi non sappiamo se a livello di scrittura magari è stato fatto diversamente e roba così però le riprese di Smile 2 sono iniziate da gennaio a marzo del 2024 mentre invece trap di Shyamalan ad agosto allora trovo molto interessante come ultimamente Hollywood si stia molto affascinando alle pop star quindi vediamo pop star che recitano tipo Selena Gomez che recita in Emilia Perez il film candidato agli Oscar per la Francia oppure ancora Ariana Grande in Wicked Lady Gaga per Joker 2 che è andato male però insomma poco importa ecco per quanto riguarda questo discorso ma vediamo anche il film, il cinema che crea delle pop star l'abbiamo visto per Trap di Shyamalan dove ha buttato dentro la figlia e l'abbiamo visto anche qui sinceramente secondo me Trap ha copiato questo film sia perché questo è stato proprio girato prima ma anche perché qui la parte della pop star dell'essere una cantante famosa ha un ruolo fondamentale che va a giocare con il doppio dell'essere te stessa e l'essere un personaggio della vita privata e della vita pubblica tutti aspetti che onestamente non vengono sfruttati in Trap in Trap noi vediamo questo palco, vediamo la figlia che si esibisce del regista e basta ma potenzialmente quel setting iniziale poteva essere anche che ne so, il centro commerciale che veniva chiuso perché credevano che c'era un criminale lì dentro mentre invece effettivamente in Smile 2 anche i costumi di scena, tutte queste cose vengono fortemente indagate è parte centrale proprio della sceneggiatura del film secondo me, quindi per vostra via verità secondo me Shyamalan non ha mezza copiata sta roba e ho detto vabbè, la moglie fa due canzoni a me via e via inoltre secondo me anche a livello di canzoni nonostante Naomi Scott non abbia la voglia di fare la pop star le canzoni secondo me sono decisamente meglio rispetto a quelle della figlia di Shyamalan come vi dicevo, secondo me è molto ispirato alla storia di Brittany Sperso questo film sia perché ci sono dei riferimenti lei che si strappa i capelli, Brittany che si è diventata iconica quando si rasa i capelli per questo stress, questo breakdown inoltre la figura della madre manager che la spinge per fare questo world tour nonostante lei non è pronta dice sì però tutti hanno investito, perderanno un sacco di soldi hanno investito su di te l'esperienza anche con i fan, questi meet and greet che sono inquietanti con questi fan che non ti conoscono, non ti vedono in quanto persona ma quindi vogliono qualcosa da te e sono inquietanti come gli stalker e roba così ricordano anche le foto imbarazzanti di Brittany Sperso che facevano questi meet and greet costretta sotto farmaci da il padre e la manager per farla lavorare illegalmente poi è stata liberata però oggettivamente c'è stata questa cosa a me è ricordato tanto, tanto, a me è ricordato tanto di tutto ciò inoltre c'è anche una cura per quanto riguarda le citazioni del mondo delle pop star dei primi 2000, ci sono chiari riferimenti ai costumi di Lady Gaga questo aspetto un po' horror, sci-fi che è letteralmente Lady Gaga c'è dei riferimenti anche a Kylie Minogue tutto è molto molto bello c'è una parte dove si fanno delle prove per quanto riguarda questo concerto che sono molto molto fighe sia per la regia sia per la coreografia molto bello allora, questo film secondo me è molto più splatter e gore rispetto al primo Smile quindi se il primo per voi era Jet Too Much questo è ancora di più inizia con il botto, questa inquadratura proprio questa scena di apertura proprio boom 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 e c'è un lavoro molto interessante per quanto riguarda l'audio l'audio che aiuta molto, è molto importante per i film horror e diventa qui proprio un aiuto ulteriore a quello che stiamo vedendo per rendere il tutto ancora più inquietante mi è piaciuta molto anche la colonna sonora che chiude il film dove ci sono i titoli di coda e ci sono queste urla che diventano musica l'ho trovata molto figa il film è decisamente veloce proprio serrato questo montaggio serrato queste inquadrature serrate questo taglio proprio netto per quanto riguarda una scena all'altra per aiutarci a spaisarci a farci perdere la bussola per quello che stiamo vedendo e capire quello che stiamo vedendo se è reale oppure no per quanto riguarda la protagonista confonderci esattamente come queste riprese vorticose molto molto bello grande cura per quanto riguarda la scenografia molto curato sia per costumi sia per la scenografia questo film le ambientazioni sono molto interessanti diventa fondamentale all'interno di tutto proprio questo setting del camerino della protagonista la protagonista e il camerino è sempre il luogo centrale della star perché viene visto un po' come il ruolo il luogo in cui si trasforma da persona normale diventa il personaggio pubblico che tutti vogliono ed è molto interessante come si gioca anche con i riflessi dello specchio del doppio di quindi vedere qualcosa in cui non ti riconosci per quanto riguarda quel riflesso un riflesso che tu diciamo quasi rifiuti che può essere l'immagine della pop star l'immagine di una nuova vita che tu stai avendo oppure ancora il rifiutare il proprio passato molto interessante per quanto riguarda tutto ciò e ci sono anche dei riferimenti un po' così delle citazioni agli horror come per esempio il tappeto su cui si indugia parecchio è un tappeto che ricorda proprio un po' il tappeto della loggia di Twin Peaks molto interessante e mi affronta anche dei dettagli che sono molto odio tranquilla Carrie molto inquietanti per quanto riguarda la protagonista si parla di corpo anche qui il corpo che è pieno di cicatrici il corpo che fa male il corpo che cambia per il taglio di capelli il colore un corpo traumatizzato che rimane tale ma ovviamente un corpo che viene molto stressato dalle richieste sociali che può essere anche qui gli standard di bellezza lo stesso identico argomento viene semplicemente spostato e si parla per esempio delle cicatrici di un corpo che non è più quello che il tuo ruolo richiede lei per esempio ha dolore alla schiena non riesce a fare le coreografie ma ovviamente è tutto parte del grande argomento la società vuole da te un corpo efficiente un corpo funzionale e tu invece non ce l'hai abbastanza che può voler dire per esempio che si collega anche all'argomento di the substance ovvero lo standard di bellezza la società ti richiede qualcosa che tu in questo momento non hai e non puoi dargli quindi devi cambiare o fare in modo che il tuo corpo possa essere all'altezza ci sono anche tutte delle riflessioni per quanto riguarda anche l'esposizione di questo corpo lei per esempio si prova questo costume e vede che con delle luci si intravede la cicatrice che ha e vorrebbe nasconderla lo chiede alla madre lo chiede al manager dice che non vuole mettere quel costume ma alla fine vedremo che sarà costretta a metterlo una cosa ovviamente è uno spostamento anche qui si parla molto spesso dell'esposizione del corpo quanto magari sono costrette dal team certe cantanti a vestirsi in una certa maniera o svestirsi in una certa maniera qui anziché limitarsi semplicemente al discorso di insicurezze legate al sedere eccetera eccetera si sposta verso le cicatrici e rimane sempre il concetto iniziale cioè l'insicurezza verso il proprio corpo che non puoi permetterti di avere e non accettano da te non puoi permetterti di coprirti e cose così perché quello hanno deciso che tu devi essere così e così devi essere che te sta bene o meno l'orrore della protagonista quindi non è semplicemente legato al paranormale ma è proprio un errore per quanto riguarda l'impossibilità di poter prendersi del tempo per elaborare il trauma della partita del fidanzato della fine dell'uso delle sostanze e anche del ruolo che ha nella società nemmeno il tempo di riprendersi ma lui viene chiesto in maniera così sempre di essere all'altezza di essere all'altezza per indossare quegli abiti il trucco impeccabile eccetera eccetera continuare ad andare avanti semplicemente perché altri devono beneficiare del suo successo e quindi deve mandare avanti la baracca come vi dicevo secondo me ci sono dei riferimenti voluti a Britney Spears perché ovviamente cita tutto il pop in generale c'è anche una grande voglia di citare la musica cioè ci sono personaggi con le magliette delle Space Girls dei Talking Head degli MTV del 1986 quindi c'è proprio una voglia di omaggiare la musica ma ci sono dei riferimenti secondo me a Britney Spears e principalmente a un video musicale che parlava proprio di questo ovvero Lucky cioè in questo video c'è Britney che ha un neo sul labbro creato e all'interno del film il neo di Naomi Scott che molto spesso viene nascosto all'interno di questo film viene sottolineato in alcuni momenti se all'interno del film noi vediamo la madre che gli dice o fai il tour o ti facciamo ricoverare in ospedale questo è esattamente quello che è successo a Britney Spears esattamente come la scena in cui gli viene controllato il telefono ho trovato anche il modo in cui viene rappresentata per esempio Gemma la migliore amica che ricorda quasi quei personaggi che sono i sidekick gli amici dei protagonisti nelle serie di Disney Channel quindi mi è sembrato proprio che ci sia la voglia di rappresentare questo e rappresentare tutto ciò come l'orrore come effettivamente si sta scoprendo che onestamente non era che fosse tutto oro in quel momento o in quel contesto soprattutto per dei bambini nel film c'è tanto tanto product placement di questa acqua boss molto buona come acqua però possiamo dire tanto product placement tanto che a dire a un certo punto ero convinta che non lo so fosse avesse un ruolo questa acqua nel film invece no era un product placement molto invasivo Naomi Scott secondo me bravissima in questo film le viene richiesto molto spesso di fare delle reazioni molto forti in primissimi piani e riesce a farle riesce a essere credibile molto molto brava il film secondo me indaga anche il senso di colpa come vi dicevo quindi sì la lettura sovranaturale d'or ormai indaga anche questo le viene detto non potrai nascondersi da te stessa perché il tuo corpo è cambiato ha delle cicatrici e roba così e tu non ti potrai nascondere da questo corpo è così inoltre lei soffre molto del senso di colpa per quello che è successo al fidanzato e quindi secondo me questa è un'altra tematica del film il film ha diversi jump scare è molto più gore rispetto al primo e fa delle scelte secondo me interessanti anche sul mostrare e non mostrare mostrare a volte le reazioni di qualcosa a qualcuno anziché la cosa che sta guardando che secondo me a volte è la scelta migliore molti più spunti di riflessione per quanto riguarda il primo film che era ovviamente una storia di una persona mentre qui ci sono davvero tante altre tematiche che vengono inserite secondo me molto interessanti io ho trovato l'argomento molto affascinante e secondo me pieno di tensione e quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se è il film perfetto per la vostra serata se lo andate a vedere se vi piace se pensate ad altre cose fatemelo sapere con un commento qui sotto se siete rimasti fin qui lasciate qui sotto un emoji con un sorriso e noi ci vediamo al prossimo video grazie mille ancora e ciao a voi grazie mille